E' arrivata nei giorni scorsi l'ufficializzazione da parte della Givova in qualità di sponsor tecnico del terzo Memorial Dante Pagni. La famosa azienda leader mondiale nel campo dell'abbigliamento sportivo, sponsor in Italia del Chievo e del Carpi in serie A e della Salernitana, dell'Atina e del Brescia in serie B, ha accettato con piacere la proposta della Most Event di sponsorizzare la terza edizione del torneo intitolato ad un grande uomo di sport Dante Pagni. Un altro tassello molto importante che si incastra nel meccanismo organizzativo messo in piedi da Danilo Pagni, Monica Stasi e Maristella Bardaro e che dà al Memorial un tocco di grande qualità. All'inizio della settimana saranno resi pubblici i calendari e soprattutto i nomi dei premiati della prima edizione del premio Dante Pagni, che si terrà con inizio alle ore 18 il 29 di aprile presso il protoconvento francescano di Castrovillari.